popolo di youtube io sono stanghinterista oggi non c'è conte perché è squalificato quindi non verrà in questo video ma con me c'è ranocchia gentilmente è venuto ranocchia nel mio video oggi abbiamo il buon ranocchia che ha giocato una buona partita il nostro veterano sono dieci anni che è con noi quindi dedico questo video ad andrea ranocchia che oggi si prende anche un discreto 6 e mezzo non soffre mai in difesa fa la sua bella partita che quando gioca lui fa sempre bene nonostante sia anche limitato per certi versi è un ragazzo timido quindi io adesso spendo questo inizio video per il buon andrea ranocchia ranocchia bravo bravo dedico a te questo video ora ti rimetto giù e parliamo però di chi effettivamente oggi è stato il migliore ragazzi chi è stato il migliore oggi erics ragazzi erics io gli do sette e mezzo erics se ne è un grande un grande erics se ne è un grande un grande un grande a centrocampo tutti tutti i palloni praticamente sono suoi tutte le azioni iniziano da lui tutte le azioni si iniziano da lui dopo anche tutti tanti passaggi di prima e aperture veramente perfette al bacio avrà smettato un passaggio in tutta la partita questo giocatore le punizioni i calci d'angolo tra poco fa anche gol da calcio d'angolo il primo gol che facciamo che sblocca la partita è merito suo perché mette un pallone bellissimo tutte le punizioni tutti i calci d'angoli sono stati tutti battuti bene tutti 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 quanti quindi ericsson per me l'uomo partita si prende sette e mezzo e non me ne volere lukaku ti do sette più oggi è vero che mi fai due gol anche se diciamo gli hai fatti quando la partita era già decisa sui binari giusti però gli hai fatti ti do sette più un po' meno di christian ericsson però comunque il nostro lukaku è tornato al gol e di questo sono molto contento come sono molto contento che anche il buon lautaro martinez è tornato al gol gli do sette a lui allora a lautaro do un po' meno e vi spiego anche perché lautaro continua a sbagliare dei gol facili mi fa i gol più complessi e poi mi sbaglia quelli facili ecco lautaro un po' lo bacchetto quindi quindi gli do sette gli do un po' meno di lukaku comunque comunque a livello di prestazione lui gioca bene gli manca solo quel quel qualcosina in più al al nostro buon lautaro martinez comunque la partita il benerento praticamente non fa niente c'è solo quell'azione sul rigore dubbio e basta cosa ha fatto poi il benerento niente allora adesso anche ricomponiamoci non esaltiamoci troppo per questa vittoria abbiamo battuto una squadra mediocre come quando io parlavo delle vittorie consecutive io vi dicevo sempre ragazzi attenzione non illudiamoci ecco anche oggi adesso ci siamo divertiti ho giocato un po' adesso però siamo seri e teniamo conto che questa è una squadra media mediocre medio scarsa ok non vogliate me ne streghe perché c'è anche la strega qua quindi lei è una tifosa del benerento e e quindi niente no ragazzi volevo solo dirvi ecco non esaltiamoci per questa per questa vittoria comunque partita che si mette subito appunto dei binari giusti e la punizione di erics nel gol poi primo tempo appunto gli errori di lautaro benevento che non fa niente praticamente secondo tempo inizia a ritmi molto lenti e poi arriva il il gol di lautaro e poi gli altri due gol di lukaku uno un gran bellissimo il quarto gol un gran bell'assist di alexis sanchez che entra sempre bene e l'altro gol bravo lautaro che recupera il pallone su un errore del portiere e il gol di lukaku poi partita appunto tranquilla poi voglio fare i complimenti anche a stellini oggi e vabbè dopo è ammetto che riceve gli ordini di antonio conte però gestito bene la partita e la squadra ha giocato in scioltezza guarda non 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 si è neanche sentito tanto che mancava conte in pagina parte gli urlacci la poi non si è sentito tanto la mancanza quindi io voglio dare al tande do il voto di coppia conte che oggi non c'è e stellini gli do sei più sei più ad entrambi complimenti comunque adesso in teoria farà anche la prossima a meno che non si tenti un ricorso giungiamo alla fine del video ragazzi giungiamo alla fine del video allora oggi facciamo un saluto ad ermoso vi lascio anche il link in descrizione passate da lui è un esperto di calcio e bravo è un bel canale seguitelo e poi ultimo ma non meno importante ragazzi ricordatevi che io vado anche in live abbiamo un canale io e altri amici che si chiama bar dei tifosi channel passate anche di là infine ragazzi cosa vi dico iscrivetevi al mio canale youtube dai che stiamo crescendo ragazzi dai forza forza mettete mi piace al video ragazzi sempre forza inter ci vediamo alla prossima coppa italia con la juventus e qui vi voglio sarà dura quindi forza inter ciao